Ciao a tutti, sono Claudio Fantini del Fantini Club di Cervia, una spiaggia storica per quanto riguarda lo sport, il benessere e lo stile di vita. Siamo qui a Fico perché crediamo che per noi sia una grande opportunità di visibilità e di far passare questo messaggio che il turismo è anche sport, benessere e stile di vita. Avremo un campo da beach volley, foot volley e beach tennis proprio su sabbia e un campo da paddle dove i nostri clienti e non solo possono venire a vivere questa esperienza di sport all'interno di Fico. Un bar dove faremo frullati, frutta e anche aperitivi perché crediamo che lo stile del Fantini Club sia quello proprio dello sport, della frutta e anche dell'aperitivo. Perciò vi aspettiamo numerosi al Fantini Club all'interno di Fico da novembre in poi.